Da oltre 100 anni a Messina, il mobilificio marchese è sinonimo di qualità ed esperienza nell'arredamento. Classico, moderno, antiquariato certificato, centro progettazione cucine, divani. Per noi ogni cliente è unico. Un'equipe di architetti ed arredatori ti accompagnerà nella scelta delle migliori soluzioni per le tue esigenze. Da oggi inoltre è disponibile il nuovo servizio di lista nozze online. Potrete tenere sotto controllo in tempo reale la lista e i regali ricevuti. I vostri invitati potranno acquistare online il proprio regalo. Inoltre il mobilificio marchese parteciperà con un proprio regalo alla vostra lista nozze. Ti aspettiamo in pieno centro in via Santa Cecilia 108, angolo via Giordano Bruno, a soli 4 minuti dall'uscita autostradale di Messina Centro. Da Marchese c'è la tua nuova casa.